E parliamo adesso di politica perché nel fine settimana c'è stato l'incontro fra amministrazione comunale e cittadini per il bilancio di metà mandato dell'amministrazione Chienni, ovviamente parliamo di Terra Nuova Bracciolini. A due anni e mezzo dalla sua insediamento, la giunta comunale di Terra Nuova Bracciolini, guidata dalla sindaco Sergio Chienni, fa un primo bilancio delle cose fatte e di quelle da realizzare. Alla primo posto il sindaco ha ricordato il mantenimento delle tasse comunali ai livelli della precedente amministrazione, anzi nel caso della mensa comunale il costo è stato addirittura sensibilmente diminuito. Di pari passo l'abbattimento del debito comunale, il sindaco stesso annuncia l'importante novità. Negli ultimi anni avevamo circa un debito che ammontava sugli 8 milioni di euro, oggi è sceso a 900 mila euro, quindi è un tasso di indebitamento molto basso, per la nostra amministrazione sono ormai pochi i mutui residui e ciò nonostante abbiamo fatto invece dei passi anche significativi per quanto concerne le opere pubbliche, perché c'eravamo presi l'impegno nelle frazioni di cominciare a recuperare un po' un gap che si era purtroppo accumulato rispetto anche al passato e abbiamo fatto la porta di Montemarciano, la rampa di Campo Gialli, la strada di Piantravigne e altre opere ovviamente e diverse opere sono anche in procinto ora di partire, come il centro polivalente delle ville, altre partiranno nei prossimi mesi come il campo sportivo della pena, quindi ecco, diverse delle nostre frazioni sono interessate dagli interventi. Infine l'attenzione per il sociale, sentiamo il primo cittadino. Non c'è solo nell'integrazione degli affitti, dare una mano a pagare le bollette e quant'altro, ma c'è anche nel dare l'opportunità di restituire alla comunità quello che si riceve. E mi spiego meglio, sta funzionando benissimo l'esperienza che vede, le persone, i soggetti svantaggiati avevano difficoltà, cioè sostanzialmente all'inserirsi nel mondo del lavoro, che vengono impiegati in attività di cura urbana, ricevono un sostegno dall'amministrazione e a loro volta restituiscono alla comunità. Abbiamo sicuramente da questo punto di vista giovato perché è migliorato il decoro urbano e dall'altro stiamo aiutando alcune persone che stanno attraversando un momentaneo momento di difficoltà.